Quando parliamo in pubblico possiamo commettere errori e fra questi c'è il lapsus, per esempio utilizzare una parola invece di un'altra, utilizzare una parola che non avremmo voluto utilizzare. Detta così sembra una tragedia, facciamo brutta figura e invece oggi vedremo che diventa una opportunità, vedremo cioè che il lapsus può diventare una risorsa per migliorare e addirittura potenziare la nostra comunicazione. Di che tipo di lapsus stiamo parlando? Del lapsus freudiano. Perché freudiano? Perché Freud all'inizio del secolo scorso, del novecento, parlò per primo di lapsus come rivelazione della dimensione più inconscia. Inconscia cioè che è in realtà nascosta alla nostra razionalità, ma che può saltare fuori, si può rivelare. Attenzione, c'è un punto fondamentale da considerare. Quando noi parliamo di lapsus, quando noi commettiamo lapsus, possiamo essere contagiosi. Contagiosi verso noi stessi, ma anche contagiosi verso le altre persone. E quindi è possibile che io oggi commetta dei lapsus durante la registrazione di questo video. Io sono Stefano Todeschi e sono consulente e formatore in Public Speaking Pratico. E proprio su questo lavoro, oltre a tutto il resto, cioè sull'apsus, facendolo diventare uno strumento potente di conoscenza maggiore del relatore, della persona che parla, ma soprattutto nel momento in cui ci capita, e non avrebbe dovuto saltare fuori, utilizzarlo a nostro vantaggio. Ora, la domanda che ci poniamo è, il lapsus è una faccenda solo inconscia? Non c'è una qualche meccanica? Sì, c'è anche una faccenda meccanica. Per esempio, quando noi utilizziamo una parola che ha un suono simile a un'altra parola, magari con significato contrario. Ad esempio, quando utilizziamo la parola piacevole, ma volevamo dire sgradevole. Ecco che, come finisce, come finiscono entrambe le parole, può condizionarci. E qui c'è una meccanica in corso. Però attenzione che se io dico piacevole in luogo di sgradevole o viceversa, Freud potrebbe dirci che in ogni caso sta muovendosi qualcosa di inconscio dentro di noi. È vero che è così piacevole oppure così sgradevole? Oppure potremmo dire piacevole in luogo di sgradevole, ma semplicemente perché presentiamo una situazione che riteniamo sgradevole, ma osserviamo la paura, la paura e quindi il desiderio che sia piacevole. O viceversa. Stiamo descrivendo una situazione piacevole, ma ci esce sgradevole perché temiamo che possa essere sgradevole. Insomma, un po' come se volessimo esorcizzare. Ed ecco che la dimensione inconscia ci esce. Ma il punto è proprio questo. Quando ci esce questa dimensione inconscia, noi abbiamo la tendenza a voler nascondere, a far finta di niente. Insomma, sbagliamo parola e andiamo avanti tranquillamente dopo un momento di chiara esitazione. Chiara per chi? Ma chiara per le persone che ci stanno guardando. È come se volessimo nascondere la polvere sotto il tappeto. Però attenzione che questo atto di nascondere la polvere sotto il tappeto lo stiamo esercitando proprio davanti alle persone e le persone si accorgono che stiamo nascondendo la polvere sotto il tappeto. Ma c'è un altro punto. A volte noi pensiamo di nascondere semplicemente la polvere, ma sono o possono apparire come detriti. Significa allora che il tappeto può rigonfiare e quindi vediamo che c'è qualcosa lì nascosto. E vedremo allora qual è il segreto, che vi svelerò quindi non sarà più un segreto, per utilizzare questi lapsus a nostro vantaggio. Se c'è una rimozione a questo punto c'è anche la possibilità di gestirla questa rimozione. Che cosa intendo con rimozione? Beh c'è una dimensione inconscia che si fa sentire perché avevo per esempio rimosso il timore di guardare un certo risvolto negativo dei contenuti che sto presentando. Allora li ho rimossi. Allora possiamo lavorare proprio su questa rimozione, cavalcandola. Molto spesso quando noi commettiamo l'apsus siamo, dice Freud, preda di una inibizione dell'attenzione. Insomma è un po' come se fossimo distratti. Nella nostra distrazione e leggerezza, inibendo l'attenzione, ecco che ciò che avevamo rimosso, che avevamo nascosto sotto il tappeto, prima ancora di cominciare a parlare, emerge, salta fuori, sboccia. Diciamo che per esempio quando stiamo parlando in pubblico stiamo magari presentando un contenuto oppure presentando un talk, a quel punto potrebbe esserci una inibizione dell'attenzione quando per esempio l'abbiamo imparato a memoria, quando l'abbiamo ripetuto troppe volte. A quel punto entriamo in una meccanica, ecco quindi la dimensione meccanica, meccanica della ripetizione e non siamo più attenti perché tanto lo so, tanto mi basta ripetere le cose che ho sempre ripetuto 50.000 volte sotto la doccia cucinando, guidando. Anche questo è un errore. Non ripetiamo troppo i discorsi perché potrebbe innescarsi l'effetto meccanico. A questo punto dobbiamo guardare bene che se c'è stata una rimozione e questa riemerge significa che si presenta, mentre stiamo parlando, un elemento perturbante, di perturbazione, o meglio di perturbazione, direbbe Freud. Un elemento cioè che alla fine costituisce una sorta di disturbo, una interferenza. Quel elemento che avevamo nascosto oppure a cui pensavamo inconsciamente emerge e va a disturbare, perturbare. C'è un caso che lui riporta, Freud, in cui il presidente della Camera dei Deputati Austriaca, siamo alla fine dell'Ottocento, inizio Novecento, una volta che aveva rilevato che molti deputati erano presenti, dice bene signori, siccome sono presenti la maggior parte dei deputati, dichiaro la seduta chiusa. Avrebbe voluto dire aperta. È interessante. Si è perturbato che cosa, dice Freud. Beh, insomma, è chiaro. Il desiderio di volerla chiudere probabilmente prima possibile ha fatto sì che uscisse la parola dichiaro chiusa invece che aperta, cioè l'esatto contrario. Ora, l'errore è possibile. Se può commetterlo il presidente della Camera dei Deputati, possiamo commetterlo anche noi. E allora che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo cercare di risolvere espresso, cioè sul momento. Esattamente come un caffè fatto sul momento, dobbiamo risolvere subito. E lo possiamo fare, cavalcando il nostro errore. E questo è il primo momento che ci permette di utilizzare il lapsus. Ma poi c'è un secondo momento, ed è l'analisi successiva. E questa la faremo invece a freddo. Perché dopo potremo chiederci perché mai sia uscito quel lapsus. È esattamente questo che faccio con le persone quando le seguo in consulenza, in formazione. Prima di tutto, quando commettono un errore durante una prova, quindi commettono un lapsus, le sprono a stare dentro, uso questa espressione tipicamente teatrale, a rimanere lì, a non fermarsi e a cavalcare il lapsus. Come si può fare? È semplicissimo. Mi è successo con... ecco, per esempio, con un cliente stava spiegando una tecnica di formazione. Una tecnica speciale di formazione. E a un certo punto, come chiosa finale, dice, questa è un'arma davvero potente. E gli comincia ad esitare. Dice, no, non un'arma. E si interrompe. Però non mi piace la parola arma. Dice, perché io tra l'altro sono un pacifista. E continua così. Peccato che abbia interrotto. Avrebbe potuto cavalcare. Un'arma molto potente. Faccio un esempio. E come farei io. Ma non significa che bisogna per forza farlo così. È giusto per capirci sulla meccanica. Un'arma molto potente. No, come un'arma. No, no, non un'arma. L'arma è un'espressione. Vedete, mi è uscita questa parola arma, benché io sia una persona pacifista, perché è chiaro che davvero è potente questo strumento di formazione. A tal punto potente che mi esce questa parola che io detesto. Si tratta davvero di uno strumento formativo che risolve sempre. Per esempio, poi dopo vado avanti, a seconda di quello che sto spiegando. In segreto allora questo. Espresso. Utilizzo. L'ingrediente che mi è uscito, che avrei voluto rimuovere e che non avrei voluto utilizzare. Lo cavalco. Mi chiedo in diretta, espresso, davanti alle persone, per quale ragione mi sia mai uscita quella parola. La cavalco, la ribalto. E utilizzo, in questo modo, una figura retorica che è la confutazione. Cioè vado a confutare le mie stesse parole perché? Perché non mi piacciono, perché le trovo sgradevoli, perché le trovo sbagliate e le trovo fuori luogo. In definitiva, il lapsus è uno strumento di errore. Errore non inteso come sbaglio, non inteso nel senso ho applicato male la forboletta matematica. Errore nel senso che mi permette di errare, cioè prendere una strada nuova. Vediamo a questo punto che il lapsus è uno strumento creativo, ha una funzione creativa. Mi permette, cioè, di utilizzare la parola sbagliata per potenziare il mio messaggio. Per esempio, potrei utilizzare un aggettivo che sembra essere riduttivo del contenuto che voglio spiegare. Faccio un esempio adesso. Potrei dire, per esempio, che il lapsus è uno strumento tutto sommato efficace per creare un discorso. E poi mi interrompo e dico tutto sommato, tutto sommato, che non mi piace, non mi piace, questo lo dico tra parentesi tra me e voi, tutto sommato mi sembra poco, poco. Nel senso che devo davvero sommare tutto, questo è vero, per l'amor del cielo. Ma è veramente efficace e potentissimo, perché molti pensano che sia un problema. E qui sta il vantaggio nostro. Noi, invece, abbiamo capito che è una grande risorsa, soprattutto quando successivamente noi compiamo una analisi dell'apsus e questo lo facciamo a freddo. Avete visto come ho utilizzato l'errore commesso del tutto sommato, un'espressione che a me non piaceva, per andarlo a potenziare. E nell'analisi che cosa facciamo? Beh, quando lavoro con le persone che ho in formazione, che ho in consulenza, allora sto attento a certi dettagli, per esempio alla mimica, come cambia, al tono, al volume della voce, come cambia, alla velocità dell'elopio. E allora sto attento e dico, guarda, quando hai commesso quel lapsus, ho notato che, per esempio, hai abbassato il volume, hai abbassato il volume della voce. Oppure lì hai accelerato. cerchiamo adesso di analizzare le ragioni possibili per cui in quel punto hai decelerato, accelerato, hai cambiato il tuo eloquio. Ma per esempio potrebbe aver cambiato la prossemica, cioè potrebbe essersi avvicinato o allontanato all'interlocutore, potrebbe essersi appoggiato allo schienale della sedia, della poltrona. Che cosa vuol dire questo? Vuol dire che lì c'è qualcosa, sta uscendo qualcosa. Non è solo un lapsus lingue, direbbe Freud, ma è anche un lapsus della prossemica. E quindi dobbiamo cercare di capire perché. Ricominciamo l'analisi. Che cosa c'è che non va in quello che stavi dicendo? Sei sicuro, sei sicura di crederci davvero? Sei sicuro, sei sicura che quel servizio di cui stavi parlando effettivamente corrisponde alle aspettative possibili o probabili dei clienti o dei potenziali clienti. E mi è successo più volte che le persone dicessero beh sai effettivamente io parlo di un servizio post vendita che dovrebbe essere il nostro fiore all'occhiello perché almeno noi lo presentiamo così però in effetti non è esattamente così perché ci rendiamo conto che le persone non sono effettivamente allenate a rispondere correttamente al telefono eccetera eccetera. Vedete questo strumento come diventa potente per conoscersi di più. A questo punto ci possiamo chiedere che cosa possiamo fare noi? Possiamo lavorare sui nostri lapsus per esempio video registrandoci oppure facendo una presentazione davanti a un complice o una complice e chiedere che cosa hanno colto, che cosa non hanno colto e soprattutto quando abbiamo commesso il lapsus che percezione hanno avuto. A quel punto noi andiamo a correggere il lapsus e chiediamo di nuovo con la correzione che altra percezione hanno avuto, come hanno sentito questo esplicitare il nostro errore utilizzandolo, cavalcandolo. Bene a questo punto se volete anche voi lavorare sul lapsus oltre che tutto il resto sulla elaborazione di discorsi, interventi, presentazioni potete farlo con me e qui. A questo link vi spiego tutto quanto. A presto!